Per chi ama giocare online è importante poter disporre di connessioni veloci e soprattutto con una latenza di comunicazione, in gergo si dice ping, che sia la più bassa possibile. Ma un ruolo importante è svolto anche dal router, ossia il dispositivo che si occupa di gestire la comunicazione tra il computer o la console e la linea di internet. La scelta del router è ancora più critica quando si utilizza il wireless, perché una pessima gestione del wireless compromette irrimediabilmente l'esperienza di gioco. In questo spazio vogliamo oggi presentare un nuovo router wireless ad alte prestazioni, ottimizzato per applicazioni multimediali e soprattutto per il gioco online. Si chiama RTN56U e arriva da Asus. RTN56U Black Diamond è il nuovo router Wi-Fi di Asus, che coniuga stile e alte prestazioni. Il design è elegante e chic, con superficie prismatica nera e spie blu, e le dimensioni sono contenute, quindi è facile da posizionare. Ha 5 porte Ethernet a velocità gigabit, di cui una dedicata al collegamento ad internet. Inoltre supporta il wireless di tipo N, il più veloce oggi disponibile. La tecnologia Giga Internet offre prestazioni fino a 5 volte superiori ad un router standard nella navigazione su internet, con la possibilità di gestire fino a 300.000 sessioni simultanee per le migliori performance di streaming o di download con applicazioni P2P. La tecnologia Wireless Dual Band, grazie a 5 antenne interne, sfrutta contemporaneamente due frequenze distinte. Le applicazioni come navigazione, email o download sono gestite sulla frequenza dei 2.4 GHz. Lo streaming di contenuti multimediali in HD e il gioco online sono invece gestiti sulla frequenza dei 5 GHz. In questo modo, le applicazioni non interferiscono tra di loro e si ottengono performance impeccabili nel gioco online o nello streaming HD via wireless. In pratica, è come possedere due router da 300 Mbps in uno solo. Con AI Radar, questo router è in grado di ottimizzare il funzionamento della propria antenna, adattandolo alle caratteristiche dell'ambiente circostante, così da ottenere la miglior copertura con segnale wireless N. RT N56U di Asus gestisce autonomamente i server FTP, Samba, UPnP e DLNA e supporta il download via HTTP, FTP e BitTorrent, ossia è in grado di condividere informazioni o scaricare dati senza bisogno di avere un PC acceso, ma semplicemente collegando un'unità di archiviazione ad una delle due porte USB integrate. RT N56U funziona anche da NAS e da server di stampa e di scansione, nell'ultimo caso collegando un dispositivo all-in-one ad una delle porte USB. RT N56U soprattutto è sicuro, infatti integra un firewall SP ed è in grado di monitorare le connessioni, inoltre supporta i protocolli WEP e WPA2 per il wireless. Permette di definire le priorità di collegamento grazie al QoS, per offrire le migliori performance nel VoIP, nello streaming, nella navigazione o nel gioco online, anche quando siano contemporaneamente attivi dei download. Il design Plug & Surf, infine, permette una facile configurazione del dispositivo direttamente da browser, senza bisogno di installare software sul proprio sistema, grazie all'intuitiva interfaccia ASUS Easy UI.